Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi non parleremo di argomenti in particolare Ma oggi ci faremo quattro risate con un po' di battute squallide che ho imparato durante la vita Ma senza, bando alle cianci, cominciamo subito Come si chiama la bambina giapponese di tutto il mondo? So Shida Nagagata, come si chiama il ministro di trasporto dei cinesi? Perché una giraffa non gira il corpo? Che giraffa? Come si chiama il cane che fa le magie? La brakatabra? Come si chiama la chef russa di brava al mondo? Kojimelova! Come si chiama l'alimentare aperto in Arabia? Ali Bendari Sapete, sti giorni sto come il cappuccetto rossa Sto una favola Qual è il colmo per un alieno? Avere lerni altissime Il colmo per un falegnale? Avere la moglie scollata Che cosa fa una pallina di gelato in mezzo al mare? Il gelato affogato Tempo fa Conobbi un frate Ovunque andavi Questo frate Veniva dietro a te Sempre dietro Stavo Andavi al bagno Ti seguiva fino al bagno Magari rimaneva fuori dalla porta Se no Andavi a leggere Libreria E lui stava sempre lì accanto Ovunque andavi Non c'era un attimo di tre Si chiama Fra le panni L'altro giorno Ho conosciuto Una suora trans Si chiama Suorpresa Dopo sto mucchio De battute Abbastanza sconce Penso che mi fermo qui E me ne cercherò altre Da leggere E da dire in un prossimo video Detto questo ragazzi Ci vediamo al prossimo video Cordiali saluti Lorenzo Vitorio Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Lasciate un bel like Se il video vi è piaciuto E fatemi sapere nei commenti Se ne volete altri Grazie a tutti